Bene, ho imparato che non importa cosa, fai sempre del tuo meglio. Perché è il meglio che puoi fare. Ehi, perché non prendiamo un altro inchino per fare del nostro meglio un inchino? Va bene, qui andiamo. Metti un braccio in alto. Ora metti l'altro braccio in alto. E poi avanti. Sì, sì, sì. Ora quello era un grande arco. Sì. 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 Sì.